Marco Bellinelli, 34 anni, una vita nell'NBA, l'unico italiano ad aver vinto un titolo nell'ormai lontano 2014 con il San Antonio Spurs e nella stessa stagione la gara del tiro da tre punti all'All-Star Game di New Orleans. Il Cus Bologna è la squadra più titolata in Italia, ha vinto 15 scudetti, nessuno come il Cus Bologna. Guarda, non lo sapevo, devo essere sincero, ovviamente ci eravamo sentiti prima, quindi mi ero un po' informato. Sono molto contento e molto orgoglioso ovviamente di sapere questa cosa perché ovviamente non è molto importante, soprattutto per uno sportivo in cui magari sai tante volte, anche io quando ero piccolo, si faceva molta fatica a cercare di andare bene tutte e due le cose e comunque ho saputo che qua si riesce a fare entrambi le cose, ti vengono incontro, quindi questo penso sia una cosa molto importante. Il Cus Bologna con l'università c'è un progetto interessante che si chiama Dual Career, l'atleta viene seguito anche a livello accademico, non solo a livello sportivo, tornando ai tuoi tempi se ci fosse stata un'opportunità del genere ti avrebbe aiutato e ti avrebbe dato una spinta forse? Assolutamente sì, io penso che sia una cosa fondamentale, che ti dico anche vivendo in passato quando ero piccolo ovviamente non ho avuto questo aiuto ma perché era ancora giovane e probabilmente ancora immaturo, nel senso che io come dicevo prima avevo tanti altri ragazzi, magari pensavano solamente palacanestro, 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 però non è scontato che poi un giocatore, anche se ha una passione incredibile, possa raggiungere i propri obiettivi. Vedere questo spazio ampio, questo perché, questi tanti canesti, diciamo mi ricorda anche il mondo in cui sono adesso, nel mondo NBA, perché mi ricorda la prima volta nel 2007 in cui sono entrato in queste palestre ovviamente fantastiche, molto grandi, appunto con tanti canesti, quindi questa sicuramente è anche una spinta in più, come dicevi tu, appunto per far crescere la voglia e la passione appunto per la palacanestro ovviamente in questo caso. Quando sei piccolo e che sei, non mi ricorda le elementari o le medie, probabilmente elementari, c'è la classica domanda comunque dell'insegnante che ti chiede cosa vuoi fare da grande. Io mi ricordo appunto che c'erano tutti i miei compagni di squadra che, poliziotto, dottore, avvocato, cioè io ho sempre detto giocare a palacanestro, ovviamente non ho mai detto giocatore NBA, seguivo molto l'NBA, quindi man mano che il tempo passava ovviamente mi legavo mentalmente molto di più a quel mondo, quindi la mia aspirazione era proprio di raggiungere quei livelli. La mia mentalità non era fermarsi lì, ma era quella comunque di raggiungere un mondo che è il top, nel senso ovviamente da piccolo magari cercavo di diventare un giocatore forte in un campionato italiano, un campionato di Eurolega, poi dopo pian piano ho dovuto mettere su anche un altro tipo di fisico, un'altra mentalità, sono cresciuto molto a livello fisico, mentale, quindi i sacrifici penso che facciano parte della vita e tutti devono essere disposti a farlo. Ecco senza tornare troppo indietro nel tempo, però credo che il discorso dei sacrifici che tu hai fatto per arrivare si sia capito nel momento in cui hai vinto, ricordo le immagini celebri del tuo pianto liberatorio quasi, perché era veramente, eri arrivato sul tetto del mondo. Ma sai cosa, che lì come ho già detto mi sono venute in mente tutte le persone che dal 2007 al 2014 quando ho vinto, probabilmente anche prima, mi dicevano no, no Marco Bellinelli non è pronto, non è un giocatore NBA, è troppo magro, non difende, non sa tirare, tira fuori equilibrio. Tira solo da tre. Esatto, quindi ti dico, è stato proprio un insieme di cose che mi hanno permesso appunto di esprimere tutto questo. Poi tu mi conosci benissimo, sono uno che comunque ha sempre la stessa faccia, poker face, mostra diciamo poche cose, però lì è stato veramente un pianto, non dico liberatorio, però un sogno diciamo che si è realizzato. Io penso che ci sia sempre un punto di inizio e qui ovviamente posso vedere che ci sono le basi, quindi sicuramente questa è una cosa super importante per giocatori in futuro che vorranno diventare non solo giocatori NBA ma comunque giocatori di alto livello. Poi come dicevo prima i sacrifici ovviamente fanno parte della vita, ci sono per tutti, non solo nella pala canestro ma nel mondo in generale, quindi bisogna solamente resistere, tenere botta e combattere. Quindi io veramente invito tutte le persone a venire qua a Bologna perché a parte essere una città fantastica comunque qui si fanno le cose serie, importanti che servono ovviamente a un ragazzino per sognare in grande.